...e tu bastarda mi chiedevi qual è la tua sfera? Al mondo si sa che questo quarto è fatto di male, che c'è di farlo a casa per non appoggiare, noi no! Noi vogliamo 50 centimetri da terra, e forse è nessuno, perché il cielo è vuoto di giorno, è pieno di notte, è pieno di sogno, è pieno di stella, è un dio, è pieno di armi, anche di colore alla sola, andiamo a essere il tuo per imprendere il volo, noi è la vostra cosa, un'altra notte insieme, ultimo in me! Un saluto a chi c'era, un saluto a chi c'està, un bacio e abbraccio a chi donà! Iusuf, 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 Iusuf! Grazie a tutti! Grazie a tutti.